Musica Ehi e bella raga, qua sono Smasherci Siamo qui in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 3 E questo oggi ragazzuoli, come potete vedere siamo con il Nomad Ma questi i gran cazzi dello specialista Perché noi oggi andremo a fare il TCT con l'MX Garand Appunto l'arma che abbiamo trovato nel pack opening scorso E per il momento io ce l'ho a livello 17 Praticamente ho un livello e l'ho maxata E devo ammettere ragazzuoli che è veramente forte come classe Cioè se ce l'avete provate questa classe qui Ho l'estrazione rapida, calcio regolabile e caricatore aumentato E poi la letale ho messo un C4 Dato che è saltato molto, uso post bruciatore Propulsione furtiva per specialista 3 E perk 2 prestigiatore E quindi raga, che dire Cioè, adesso lo vediamo in partita ma è veramente troppo forte Quindi che dire, io direi di andarci a trovare una partita in Nucleo DCT E ci becchiamo direttamente in partita Ok raga, mi scuso se in questo pezzo di video non parlerò Ma purtroppo l'ho dovuto prendere dal cinema A causa di Cher che non mi ha registrato praticamente fino a un certo punto del video Praticamente non mi ha registrato fino alla dodicesima kill E poi dalla dodicesima kill mi ha preso la registrazione Quindi lascio con una piccola musica E vi faccio vedere questo piccolo gameplay E poi come dire c'è questa è il mio gameplay Dove parlo io in live Quindi vai Bella così Aspetta randato Aspetta randato Aspetta randato Aspetta randato Oh mio dio Ok Volevi Contraattacco No 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 merda Ah merda ho sentito che c'avevi lame I lame che scioffa No 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 Oh già 15 regà Ma li stiamo Abbiamo parlato Abbiamo parlato e siamo pure sputtanati in radio Ruin eliminato Sì dove stanno Fanno una ghiacchierata Ok L'ho sentito L'ho sentito No 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 Voglio dire che Ma li stiamo veramente Arando Ma male Granata Ma chi è che c'è granate Riper a terra Tu avvio stile individuato Ho sentito qualcuno però Non si rialzerà Guarda sto merdone Guarda sto merdone Gira con le maker E va fan bene No Quanto mi ha arato Quanto mi ha arato Ok Ho fatto fuori con c4 Oh e mori Regà 4 hit marker Ma sei serio Ma che saranno Wallbang e wallbang Quello che cazzo ti pare Ma dai No 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 regà Mi sto sputtanando in radio In una maniera assurda Oh quello si becca l'api Infatti Era calcolata No 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 Preso Nemico eliminato No 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 Che partitone raga Veramente che partitone Sono partiti veramente a bomba Uno start è pazzesco Non si rialzerà Guarda quello Che stai rigato Cos'è che ti turba amico No 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 Guardalo 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 Che non avanzava Perché c'era il c4 Allora Tentiamo di non morire più Di fare un bel 30-10 Col Garand Ho preso No la granata Vabbè Oddio Oddio No 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 Mi sto sputtanando in radio Come un coglione Dai Fu una bella partita Cacchio Uno start è veramente pazzesco Ah merda Non si rialzerà Dov'è con l'e-maker Dov'è con l'e-maker Dov'è Con l'armetta Porco due Vai 29 raga Eeeh Mamma mia raga Che partita 30-13-2.31 di radio Mamma mia SOS Eh te credo Sono scherzo Come dice Giove Mamma mia Veramente Una partita veramente Mossa fiata Abbiamo fatto uno start Pazzesco E questo qua Non so per quanto Veramente Una partita molto molto figa Ovviamente il mio nomad Dice già tanto Se colpire qualcosa Non gli abbiamo fatto Manco vedere L'arma loro Facciamo il gesto vanto Una bella dub Eeeh Weeeh Weeeh Eeeh Quanto è figo Raga Mamma mia Non ci credo nemmeno io Ho fatto veramente Una bella partita Poi col garant In TCT Mamma mia L'abbiamo spaccati Veramente Ok raga 420 punti al minuto E 2.31 di radio Mamma mia Ah red Per questi uomini Arad E questa targhetta qui Penso che qualcuno La conoscerà È vero di brutale Ringrazio il mio amico Che mi ha chialato in serie Merdone Eeeh Vabbè raga Che dire Io direi che per questo video Può essere tutto Mi raccomando lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto E qui da StamosMatch È tutto Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti